bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi dopo il grande successo del 24 aprile sull'inserimento del rimborso e purtroppo l'eliminazione dello stesso nello stesso giorno oggi ragazzi con l'aggiornamento di qualche minuto fa finalmente è stato reintrodotto il rimborso oggetti non so se ve lo ricordate ragazzi ma una volta andavamo nel negozio oggetti e nella parte in basso a destra c'era proprio scritto rimborso oggetti per chi ragazzi non l'avesse ancora trovato invece oggi il rimborso è disponibile direttamente dalle impostazioni del gioco quindi clicchiamo sulle barrette del menu principale andiamo sulla rotellina impostazioni e ci spostiamo nell'ultima icona quella del personaggio da qua ragazzi potremmo trovare finalmente il rimborso come vedete lui ci dice se acquisti involontariamente un oggetto tramite i vbac hai tre richieste di reso a vita solo gli oggetti acquistati negli ultimi 30 giorni sono idonei gli oggetti consumabili come il pass battaglia i livelli del pass battaglia o i lama non possono essere restituiti quindi ragazzi io non ho ancora acquistato niente ma voi se lo avete fatto cliccando sul bottone inoltre una richiesta potete andare a selezionare l'oggetto che preferite essere rimborsato quindi ragazzi per la felicità di tutti il rimborso torna oggi mercoledì 30 maggio con un giorno di anticipo rispetto a quello che ci avevano detto spero che questo video ragazzi vi sia risultato utile vi ricordo sempre un bel like se vi sta piacendo e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale in tantissimi e condividetelo con tutti i vostri social noi ci vediamo in live ciao iscrivetevi al canale